Io sono Katia, sono la moglie di Roberto, è il titolare dell'azienda agrituristica dove ci troviamo, qua a Camposilvano. Sono 28 anni che siamo qua in Lessigna con la nostra azienda agricola e da 28 anni abbiamo parto il nostro piccolo agriturismo per offrire ai clienti, a tutte le persone che visitano la Lessigna, i prodotti del territorio. La nostra azienda agricola produce tutta la carne che serviamo ai nostri clienti, sia il manzo e sia i maiali. Da lì facciamo i nostri prodotti, i salumi e i formaggi e stiamo pensando di incentivare anche il nostro agriturismo con il discorso delle camere. In questi ultimi anni, con l'aiuto di Gal Baldo Lessigna, abbiamo usufruito dei fondi per incrementare la nostra azienda agricola e agrituristica. Stiamo facendo degli appartamentini per poter ospitare i nostri clienti anche per qualche giorno qua nella nostra Lessigna. Abbiamo preso l'occasione di questi fondi per poter fare questi lavori che altrimenti sarebbe stato difficile, specialmente con gli ultimi tempi. Se ci fosse la possibilità di accedere ad altri fondi, magari sarebbe interessante andare avanti con il discorso. Grazie a tutti!